... Bello a tutti ragazzi bentornati sul mio canale Qui è Elie ed oggi siamo in un video vlog Tanto perchè mi andava di fare un video vlog Perchè da tantissimo che devo fare una cosa Che faremo a metà video, ossia la telefonata Al mio fan, da tantissimo, è proprio Quanti mesi sono, due Due circa penso, si Perchè l'ho fatto a dicembre, no A gennaio ho nominato il vincitore Ancora devo fare la telefonata Scusatemi, sto ritardando Tantissimo, comunque Oggi è San Valentino Ossia, cioè, oggi Non è San Valentino Perchè oggi è sabato 13, domani È San Valentino, ma voi state vedendo il video Comunque, oggi è San Valentino Quindi auguri a tutti gli innamorati E a tutti i Valentini Sia Valentina che Valentino Che non vincono mai nessuna gara Comunque, cavolate a parte, auguri a tutti gli innamorati E a tutti i Valentini È la vostra festa anche E noi ce ne dimentichiamo perennemente Pensiamo soltanto alle nostre fidanzate Comunque, scrivetemi qua sotto nei commenti Come state passando Come avete passato Come state passando O come passerete No, come passerete no San Valentino E... Sarà divertente leggere i vostri commenti E vedere cosa avete fatto voi Perchè io ancora non so che cosa farò domani Dovrei passarlo con la mia ragazza Ma sinceramente non so che cosa farò Comunque In questo video che cosa andremo a fare Ordo la telefonata Andremo a rispondere le vostre domande Che avete lasciato sotto nei commenti Con l'hashtag Hashtag Hashtag Ask Le Perchè Se voi non mi lasciate le domande Io non mi posso rispondere Quindi lasciate le domande Con l'hashtag Hashtag Le Io risponderò a tutto quello che volete Partiamo subito con le prime domande Partiamo subito salutando Mi sono dimenticato il nome Partiamo subito salutando Yoki J Che mi chiede di salutarle Quindi Ciao Yoki Il J Penso che sia copiato da Favi J Locash invece mi chiede di descrivermi E che cosa posso dire di me Oltre a che sono una persona letteralmente odiosa Penso che le persone che mi conoscono Che sono a parte voi Che siete le persone che guardano i miei video Quelli che mi conoscono di persona Sanno che sono veramente molto pignolo Non sopporto le cose illogiche Le cose che non hanno una loro logica E un continuo preciso Non lo sopporto Non sopporto neanche il disordine Nonostante la mia camera sia Il completo disordine Cioè Qui dentro non si ritrova nulla Eppure io non lo sopporto Cioè Questo è il mio ordine E non sopporto le cose messe diversamente Quindi sono uno molto pignolo Perché non sopporto gli errori Di qualunque tipo Non sopporto l'illogicità E Sono disordinato Molto disordinato Per il resto voi sapete già tutto che sono Perché sono me stesso nei video Insomma Sono Questo Uno che si blocca continuamente con le parole Perché sono un demente E Basta Sono questo Passiamo alla prossima domanda che è meglio Ale mi fa ben due domande La prima è Qual è la tua paura più grande? La mia paura più grande Penso sia del far male alle altre persone Non sopporto che le Che Persone che mi siano accanto Soffrano a causa mia Questo È una delle più grandi paure che ho Non mi piace far soffrire persone E quindi cerco di evitarle Di evitare di fare paura alle persone Invece Paure un po' più sensate No Non ne ho di paure un po' più sensate Oltre a far male alle persone Non ho altre paure Penso Certo È normale che se mi ritrovo di fronte a una situazione di pericolo Lì per lì ho paura Ma come paura enorme Che proprio me la sento perennemente Sempre che mi perseguita nessuna Invece l'altra domanda Che mi fa sempre Ale È Qual è la persona che odio di più su Youtube Non ho qualcuno che odio su Youtube Come non ho uno Youtuber preferito Non ho qualcuno che odio su Youtube Certo Ci sono quelli che proprio Perché fai queste cose Perché fai video del genere Che non capisco E poi ci sono quelli che si seguono Ecco Non ho qualcuno che odio È Un po' strano Di solito odio Odio molte cose Odio molte persone Ma non odio le persone che fanno i video su Youtube Perché ognuno ha il suo stile E ognuno piace per quello che è Invece passiamo subito alle domande prese da Instagram Che lì A quanto pare l'hashtag Askele è opzionale Perché non lo capisco per quale motivo E a proposito di Instagram e di social Vi volevo dire di seguirmi sui social Seguitemi sui social perché è importante Spam in mezzo al video Così A caso Seguitemi sui social perché è veramente molto importante E mi sono fatto sia Snapchat Che Oddio Twitter Twitter Esattamente Mi sono fatto anche Twitter Snapchat non l'ho ancora capito Perché Quel coso fantasmino bianco sullo sfondo Non lo capisco Non capisco come si faccia E invece Twitter già l'ho capito Lo so già utilizzare Ho già un account Quindi se volete seguirmi Vi li scrivo qua sotto In descrizione Tutti i social Ve li riscrivo da capo tutti Mentre volevo Proporvi una cosa Una cosa La cosa è Un gruppo Telegram Per chi non sa che cosa è Telegram È una specie di Whatsapp Solo che Non c'è bisogno di salvarsi tutti i numeri Per raggiungere le persone Quindi lascio un link In descrizione magari E vi iscrivete tutti Al gruppo di Di Telegram E possiamo parlare Continuamente Sempre che io abbia tempo Potremmo parlare E quindi è una cosa Una cosa in più Per star vicino a voi E volevo ringraziarvi Anche mi è tornato adesso In mente Ma come faccio Troppe cose Troppe cose da dire In pochissimo tempo Il tempo è pochissimo Volevo ringraziarvi Per i 1500 iscritti Abbiamo superato i 1500 L'ho scritto su Instagram L'ho scritto su Facebook Ma se non mi segui Su questi due social Non potevi festeggiare con me Precisamente una settimana fa Sono arrivato a 1500 iscritti Adesso siamo già a 1540 O 30 Non me lo ricordo Comunque abbiamo già superato Il 1500 Ci avviciniamo a 1550 Ditemi qui sotto Nei commenti Quale speciale potrei fare Che non so che cosa fare Che cosa mi invento io Che cosa tiro fuori Non ho idea Per lo speciale del 1500 Quindi ditemelo voi Qua sotto Nei commenti E vedrò che cosa Riesco a tirar fuori Passiamo alle domande Di Instagram Che è meglio Allora partiamo subito salutando Giussi Perché ci sono Quante H 4Y e 1H Quindi Giussi Ciao Iniziamo subito Con la domanda Di Alessio Lopresti Che mi fa una domanda Abbastanza interessante Che si collega un po' A quella di Piccola Elfa E mi arrivano Le notifiche Dei messaggi Alessio Lopresti Che mi chiede Hai mai trovato ostacoli Nel tuo percorso su YouTube Cosa ti ha spinto a continuare Invece Piccola Elfa Mi chiede Tua madre Cosa pensa di tutto ciò Allora Entrambi La domanda è molto simile Perché Sì ho trovato ostacoli Nel mio Nel percorso Perché ovviamente Quando inizi Hai la frustrazione Del fatto che nessuno Guarda i tuoi video Che le visualizzazioni Siano basse Ma Se iniziate a fare Ad avere un canale Su YouTube Fregate Ve ne andate avanti Perché prima o poi I video verranno visti I miei Attualmente Non sono visti Praticamente da nessuno Cioè ci sono poche visualizzazioni Nonostante gli iscritti Siano molti Quindi fregatevene E andate avanti Perché Se vi piace farlo Vi divertite a farlo Andate avanti E fregatevene E una degli ostacoli È stato proprio Il commento E il giudizio Dei miei genitori Della mia famiglia Che dicono che I miei video Siano noiosi Mia sorella All'inizio Mi seguiva Adesso non mi segue più Perché ritiene Che i miei video Siano noiosi Ok Ci sta È un gusto Però essendo la mia famiglia Ho preso molto sul serio Questo Questo loro Giudizio E All'inizio Pensavo di abbandonare Tutto Soltanto per il loro Giudizio Negativo Però non l'ho fatto E infatti sono ancora qui E si va avanti Ma adesso Ragazzi Passiamo al momento Più importante Di tutto il video Il momento più importante Di tutto il video Qual è? Cioè Ormai È fondamentale Fare questa cosa Girare sulla segna Ok Questa cosa Sta prendendo il controllo È inizio video A metà video Basta Basta E ora ragazzi È il momento Di Telefonare Telefoniamo a casa E chiediamo l'aiuto Di Real Marty Il quale ha vinto Il primo Il primo posto Per la fan Quindi adesso Andremo a telefonare Andiamo a telefonare Ha risposto Alla segreteria telefonica Questo potrebbe essere Un piccolo problema Potrebbe essere Un problema Piccolo così Io Ci riprovo In caso Farò una telefonata Più avanti Riproviamoci Come non detto Ha risposto La segreteria telefonica Questo vuol dire Che farò la telefonata In un prossimo video Oppure in una clip A parte Dipende da No No Devo per forza Fare la telefonata In un prossimo video Mi spiace Volevo farlo Proprio per questo No Volevo fare questo video Soltanto per la telefonata Comunque ragazzi Comunque Vabbè È andata così Faremo una telefonata Nel prossimo video Io come sempre Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un like Un commento Di condividere Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Passate dai social Che trovate in descrizione Noi ci rivediamo Come sempre In un prossimo video Ciao